Via Libera al ritorno del mercato infrasettimanale nel cuore di Tiene dopo un lunedì di stop forzato in ragione dell'ordinanza regionale emanata la scorsa settimana a ridosso della data del 16 novembre, impedendo a istituzioni locali ed esercenti e ambulanti di organizzarsi in tempo utile per rispettare le nuove modalità imposte. Un assiduo confronto tra comune di Tiene e portavoce della polizia locale, rappresentanti di categoria, confesercenti, confcommercio col diretti, hanno permesso di mettere a punto il piano di logistica, prevenzione e controllo e consentire la ripresa del tradizionale mercato dal lunedì 23 novembre. Con la buona notizia per tutti i commercianti con tappa fissa Tiene nel primo giorno della settimana di non dover procedere a tagli dei banchi, gli espositori saranno presenti al completo senza limitazioni e soli alimentari. Confermata la possibilità di tornare agli affari quotidiani per i titolari dei 180 banchi presenti di norma senza mutilazioni, come si legge nel comunicato stampo ufficiale emesso oggi dal comune su un'area di oltre 5.600 metri quadrati tra le più vaste della provincia.